Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui su Magic Duel's Origin. Siamo di nuovo qui con Jace Belleran, sperando in questo giro di seccare i bulli in modo più semplice. La scorsa volta ho fatto davvero un grande errore, che è stato quello di dare troppo spazio ad un mazzo rosso, che come caratteristica ha il fatto di essere brutale. E quindi il fatto di avergli lasciato spazio all'inizio mi ha portato in una situazione di svantaggio. Non posso temporeggiare con un mazzo rosso, devo cercare di chiudere prima che sia infattibile. E iniziamo già con un mazzo per niente interessante. Meglio, meglio sì. Poche creature però isole, sì. Ah sì, perfetto. La maga azzurra, è quello che speravo. Questo, da quanto ho visto, ce ne ho un discreto numero e... Ma mi dicono che è utile, eh? Come reggisio. LOL. Da quello che ho visto ne abbiamo abbastanza e sono abbastanza sacrificabili. Ecco, tipo per esempio contro il Segujo fa uccidì cenere. Eh, sto giro giochiamo la... Lui probabilmente attaccherà col Segujo fa uccidì cenere nel prossimo giro. E perderemo la maga azzurra, ma almeno lui perderà il Segujo. E avremo un... Un margine di... Cribbio! Cribbio! E quanto è? Un 3-1. Sì, possiamo seccarlo facilmente, però... Quale secchiamo? L'ogre... O il Segujo. L'ogre fa più danni. Non bueno Servirebbe... Oh, un'altra magazzurra, stavo per dire Allora, qua invece abbiamo anche un guerriero fantasma Che non può essere bloccato Ottimo Ottimo L'unica cosa è che Ci muore comunque contro Il fauci di cenere Quindi io dovrei mettere la magazzurra Ora Sì, io metterei la magazzurra In modo che quando lui mi attacca Possa sacrificarla per distruggere Non posso lasciargli delle carte in terra No Sperando che non giochi niente su giro Perché ha già 4 terre E eccolo Di nuovo un brutto Meglio così avrei dovuto sacrificare un guerriero fantasma Meglio sacrificare la magazzurra a sto punto Sperando di avere altre magazzurre, credio Perché qua stiamo Stiamo restando in una continua situazione di svantaggio Continua situazione di svantaggio Allora, mo' cosa posso fare? Drago fantasma Ok, che è un'ottima idea Questa può essere un'ottima idea Per quando avrà più roba in campo Però ora com'era gioco il drago fantasma Che ha un'ottima costituzione E' da volare L'unica cosa è che è un po' Di carta Perché se viene bersagliato da una magia Deve essere sacrificato Quindi basta che mi fa un meno uno Non lo so sul drago E buonanotte Un altro su Vugio falce di cenere Attaccherà con quello No, non attacca E beh, perché sennò ci morirebbe Allora Io andrei Allora adesso di guarire il fantasma In modo da non essere bloccato Credo Oppure di svuota magie Non devo fargli tornare in mano No, andrei di guerriero fantasma Se gioca un altro Oppure gioco invertire il flusso Questo costa due Questo costa tre Non ne ho abbastanza Per giocare le entrambi Eh Questo me li seccherebbe Tutti e due Sarebbe un'ottima idea Oh, me lo tengo per dopo No, giochiamolo ora No, giochiamolo ora Sì Crippio, l'ho giocato male Avevo letto 0-2 Stupido Adesso è il tempo che tocca a lui E' di nuovo Infatti Sprecaturno sprecato Simo è attacca con tutti e due Ovvio Avrei dovuto giocare il guerriero fantasma Non mi serviva quella carta Man Oh sì, alleluia Può fargli ritornare in mano Un segugio No, andiamo di guerriero fantasma Dobbiamo chiuderla Attacco, sì Se mi attacca ci sacrifico No, non sacrifico il guerriero fantasma Per ora Perché Se Rimane così la situazione Posso chiudere la più in fretta di lui Salta blocco Arrivò 8, è vero Ma adesso posso attaccarlo con 7 Uh 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 Sì Sì, 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 sì Posso attaccarlo con 7 E avere di che difendere Ottima idea E non può bloccarmeli questi Prossimo giro è morto Bisogna vedere cosa gioca Ha 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 Ottimo 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 Ma devo mettere non mostrare più Ehm Ah Ah, altro da No, attacca Attacca con tutto Io devo usare questo per bloccare di quello E mi prendo 4 pizze in faccia Però devo per forza far così Altrimenti mi ci muoio 2 4 E sto giro dovremmo riuscire a chiudere Nonostante quel madornale errore Ehm Attacca con tutto Ed è chiusa Ottimo Ottimo Bene, 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 bene Bene, 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 bene Ok, 8 minuti credo che potremo fare anche la seconda parte In fronte del tuo sprezzo alcuni bulli ti spingono giù dall'anello Ti aggrappi disperatamente al bordo Quasi senza renderti conto di cosa stia accadendo Con la telepatia costringe uno dei bulli a salvarti la vita Ehm Hai vinto la battaglia ma il pericolo costituito dalle tue abilità è diventato terribilmente palese Una sfinge di nome Alhamaret Venuta a conoscenza dell'incidente e ti raggiunge È un mago mentale, è un giudice in questioni politiche Lascia la tua casa per addestrarti con lui Nella speranza che possa aiutarti a dominare le tue abilità Alhamaret Mette di frequente la prova ai tuoi progressi Allora Sì discreto Tanto da quanto abbiamo visto la metà delle volte Mettiamo la maga dell'acqua, là come si chiama No ecco per esempio no adesso Cosa abbiamo preso? Invertire il flusso Che è stata la causa del nostro errore dello scorso giro Allora questo ha un blu anch'esso Ok Dovremmo attaccare col drago e con i fantasmi Per il fatto che avendo un difensore così tosto Non abbiamo di che seccarlo È inutile Ma non ho da cercare di invertire il flusso Non ha niente lui su cui giocarlo Ok Cosa gioca? Uh è sbrillicicosa Creatura omuncolo Ogni volta che una creatura attacca a te A un planeswalker che controlla il controllo di quella creatura Mette le prime due carte del suo grimone nel suo cemitero Oddio questa strada Seccare se possibile Non mi piace per nulla questo omuncolo Sbrillicicoso Ok Possiamo giocare già al drago fantasma? No ci manca ancora uno di mano ma possiamo mettere il guerriere fantasma Attacca con l'omuncolo No Gioco un altro fantasma bisbigliante Ha una forte difesa ma noi abbiamo dei fantasmi Che possono permetterci di passare oltre Niente mana Peschiamo due carte ecco Oh Alleluia E attacchiamo col guerriero Era un sacrificio da dover fare L'unico perché tenerlo in mano non aveva alcun senso Sì ci saremmo potuti difendere questo inganno ma Per cosa? Per niente di fatto? Per rimandare semplicemente il problema? No 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 Io la voglio chiudere Ed è per questo che gioco il Oddio Porca di miseria Non bueno Però con quello che sta facendo lui potremmo usare poi questo E sarà molto interessante Perché lo riporteremo alla situazione in cui siamo noi Ma per ora non c'è problema eh Ma questa non è una magia Questa è una creatura Nembo delle isole Questa creatura può essere bloccata Sì però è un 3-3 Quello è un 5-5 Vado di drago Sperando che non abbia altre cose con cui Rompere mille scatoli insomma Abbiamo 8 carte nel cimitero Aaaaaah Oddio È una magia È un incantesimo Posso disabilitarglielo con questa Devo disabilitarglielo con questa Perché se no Ne abbiamo un mazzo solo blu Solo blu Ah non è considerata come magia No Oddio Devo chiuderla in fretta Prima che finisca il mazzo qua 1 e 1 e 2 Via 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 Al prossimo giro posso chiuderla Ma devo chiuderla al prossimo giro Perché altrimenti Finisco il mazzo in un niente Vai Ottimo Ottimo Adesso vediamo quanto ti diverti Ottimo Benissimo Sto giro siamo riusciti a concludere Tutte e due Prenderci i nostri gettoncini di presenza Hai avuto la meglio su di lui E hai dato prova del tuo potere Ma qualcosa è andato storto L'energia frutto intorno a te Ti senti come Senti come se ti stessi Elevando Davrini stessa Alhamaret Smorza la tua magia Ti riporta indietro Concella l'incidente Dalla tua memoria Allora Nel prossimo episodio ci sarà Alhamaret è convinto che tu sia pronto per una vera missione In quanto giudice che opera a favore della pace Ha bisogno di informazioni aggiornate dalla prima linea Il tuo compito sarà infiltrarti in un accampamento di ribelli Sfruttare la tua magia Per sconfiggere le guardie E scoprire i loro piani di battaglia Ottimo 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 Quindi io vi invito a lasciare un mi piace Se per caso l'episodio vi fosse piaciuto Iscrivervi Se non l'aveste già fatto La mia pagina Facebook è in descrizione Mi dimentico sempre di dirlo Io vi saluto Vi auguro una buona giornata Ciao a tutti Grazie